Si è tolto la sacca di lui per sembrare un po' meno di destra, ma c'è un suo nomino che si chiama Valentino Valentini che ha la barba da sempre e che è l'assistente patrimoniale di Berlusconi, potevano scappiarsi le parti perché lui poteva fare l'assistente di Berlusconi e l'altro poteva fare il sindaco di Montepalto perché erano proprio un incrocio con lo stesso nome di realtà antropologiche e simili, uno aveva la faccia alla comunista, l'altro, e questo giovane così florico e così identificato, come un gigante, aveva la faccia, adesso si è un po' sporcato con la barba, ma l'ha fatto apposta, deve confondersi per non far capire la sua natura propriamente.